Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati in Crusader Kings 2 Seguiamo le vicende del Ducato di Milano mentre cresce Visto e considerato che vogliamo Voglio portare tutto questo gameplay Poi dopo su Europa 4 E Victoria 2 E forse vediamo anche su Art of Iron 4 Per fare il mega combattimento finale Se ci sarà un mega combattimento finale Ho idea che farò anche delle live In cui manderemo più avanti il gioco E vedremo intanto cosa tiriamo fuori dal cappello in questo periodo Dai Il mio prigioniere, il Duca Alessandro di Beneventro Si lamenta di essere Ma si Very well Non siamo in guerra con nessuno Quindi lasciamolo andare Tanto non è nostro Non è importante averlo Ormai Era durante una guerra Le guerre non ci sono più Quindi Ah una cosa Non mi ricordo più La terza crociata per Gerusalemme Uh E abbiamo Il mio reame è colpito da un'epidemia Camp fever Aia Va bene La guerra ovviamente sta andando male Perché È ovvio Le crociate non vanno mai bene A meno che non sia tua a gestirle Boh Che strano Aia Di che cosa è morto? Uh Era infermo a letto Il mio spy master Vediamo Ludmila Ducessa di Milano La mia moglie Ma si mettiamola Tanto cosa può fare di male? È mia moglie Mi vuole bene Perché mi oviate tutti? Che vi ho fatto di male ragazzi? Vediamo un attimo perché ha lo stewardship così basso Depresso Trader Business Faction Sì beh ma è mio fratello Vabbè Non è mio familiare più che mio fratello Oh Ludmila è incinta Quindi prepariamoci a dare un nome Ah Il fatto difensivo contro Guylain De Poitras Poitras È stato disbandato Quindi è stato sciolto Certo che la Francia viene proprio massacrata L'Inghilterra si sta Ispandendo Il re è un De Gale È cambiato No è sempre lui Il Silente Ed è un crociato Io non mi unisco perché ho altre cose a cui espirare onestamente Il Count Albino Steward No Di cosa è morto? Di grande stress Ma porca miseria Il fatto è che non ho Stewards Dovrei mettere questo qua Con Stewardship 3 Ma tu hai voglia di scherzare Invite Noble to Court Invitiamo un nuovo Nobile Alla Corte Magari troviamo qualcuno che è bravo a fare di conto Vediamo lui Allora Special Designated Regent Designated Regent Your Kingsman Your Kingswoman Kingswoman Your Brother Mettiamo mio fratello Come Come reggente Per il momento Poi mettiamo Come Master of a Horse Lui E siamo a posto Madonna mia Siamo messi veramente male Con tutte le statistiche Non me lo sarei aspettato Onestamente Io non voglio andare a fare la guerra A mio fratello Che è qua Quindi Mio fratello è comunque un parente Io continuo a chiamarli fratelli Ma è sbagliato Oh Vediamo È arrivato il tempo di decidere Finalmente Chi è Il nome Qual è il nome che daremo Quindi Andiamo a vedere immediatamente Teremo fuori Visto che è un maschietto Andiamo a tirar fuori Dove sei Dice roller Dove sei Dice roller Dai Dai Eccolo qua Allora abbiamo al momento Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unde Due Tredici Tredici Quindi Questo è un problema Allora mettiamo E poi uno di sei Se salta dieci E poi cosa Lo attiriamo Prova No È il numero sei Il numero sei è Uno Due Tre Quattro Cinque Sei È Nicola Nicola di Edoardo L Di Edoardo Quindi lo prendiamo Nicola Mettiamo in pausa Qui Togliamo il nome Special Format Tech Come al solito Io vi ricordo Che Attendo I nomi Due nomi maschili E due nomi femminili Da dare all'interno Della Della nostra Bellissima Famiglia Mamma mia che comandanti Pessimi Oh sì Facciamo un investimento Va che fanno sempre bene Supportiamo i carpentieri E abbiamo uno stewardship P1 Questo va bene anche perché Abbiamo una stewardship Che è pessima Mio figlio invece Come sta crescendo Ma Non è che sia quel granché A dire il vero Mi verrebbe tanto voglia Di attaccare questo qua E fargliela E prendermi il controllo Uh guard dogs Bello Li voglio anch'io Come faccio? Allora Vediamo invece Praga Praga Siamo veramente Bassi Come Come cosa Loro hanno 10.880 uomini Noi non abbiamo abbastanza Per poter sopperire Abbiamo Non abbiamo Sufficienza Abbiamo un basso livello Di Di Ma perché questo Sta andando giù? Leage is Homosexual Beh almeno Però si diverte Vabbè Sarà bisessuale Chi se ne frega Non sta a noi Decidere Ancora un altro patto Difensivo Spiega che è stato Facciamo Andiamo subito Bio Merchant Ship for the journey Sì sì Andiamo Questo non fa Non me ne frega niente Serene Doge Di venezia Tu dovresti diventare Parte del mio regno A breve E partiamo Per le terre lontane Quasi fossimo Una repubblica marinara La tua spedizione Finalmente raggiunge Il reame Del sultano Azrek terzo Il tuo steward Ti chiede Quale Quale bene Quale Regalo Potremmo portare Come segno Di amicizia Al sultano Azrek terzo 12 Forti cavalli Beh Bisogna una giusta Come cosa No Vabbè Il nostro steward Sta facendo la figura Di quello che mangia Senza Senza maniere Stiamo Quando Oh no Abbiamo i preti No Deve essere fermata Qui non Non potete venire A rompere le scatole Durante una Trading operation Una trade operation Oh Avremo Un prof Avremo Del profitto 500 D'oro 150 Di prestigio Le tasse che aumentano Stewardship Aumentata Bellissimo Abbiamo una War chest E adesso Che cosa possiamo fare Groom my hair Facciamo crescere Uno dei nostri figli Diamo Diamogli un po' di soldi Allo steward D'altronde E' lui quello che ha finanziato Quest'operazione Ci sta Allora Tu Ho bisogno che fai Struggle Perché io ti voglio rendere Un soldato Ah vabbè Ok Va bene Va bene Va bene Lì Tranquillo Il Completo Oh no Zaccaria sta provando il suo meglio D'altronde ha salvato più di una volta Le nostre Le nostre vite Cavolo Una volta che sbaglia No Ho mandato lo steward Eckhart A controllare una costruzione Nella contea E la costruzione E' caduta Quasi istantaneamente Poi l'ho mandato Per raccogliere Delle tasse E una delle Nelle prioriche province Ed è ritornato Con molto meno Di quello che ho anticipato Eckhart Chiaramente Manca delle capacità Per essere uno steward E Per formare anche I più semplici I più semplici compiti Non sei bravo abbastanza Mi dispiace Uh un altro Allora Se eravamo a 13 Adesso siamo a 12 Prende il numero 2 Che è Tergomenzio Allora Tergomenzio Tergomenzio Del buon Million dollar E abbiamo sistemato Anche questo Un bel problema Abbiamo Abbiamo la nostra La nostra posizione Che non è molto Sicura Prima Prendevamo tanti soldi Adesso ne prendiamo Molti di meno Milita training ground Vediamo un attimo Se possiamo migliorare Soup kitchen Miglioriamo questo E non c'è nient'altro Da migliorare Vediamo se possiamo Magari aumentare Il retinue No Non abbiamo Abbastanza uomini Nuove importanti Decisioni Possono essere fatte Ovvero 200 di denunzione No Teniamo così Ragazzi No Non ti do una mano Perché tu sei Tu hai dei territori miei E non ti voglio aiutare Sì Ok Sì ok Diamo una mano Invece al vescovo Perché Può esserci utile Anche se è di ferrare Quindi sono territori Che vogliamo conquistare Presto o tardi Nel frattempo Nel frattempo La Francia Naturalmente I soldi I soldi che abbiamo investito Precedentemente In una Attività Sono andati Completamente A farsi benedire Ah mi vieni Ma perché Ma stronzo Ma vai al diavolo Cioè io sono Cioè tu sei venuto a controllare Che io sono omosessuale Per cosa Per dopo Sputtanarmi in giro Ah sì Ah sì E' un po' troppa gente Non posso far nulla Non posso perché vogliono ora City tax Aumentiamo Abbiamo bisogno di soldi Ragazzi E' la cosa più importante In questo momento Milita training ground Vediamo se possiamo aumentare Qualcos'altro Tipo Light cavalry Heavy cavalry Abbiamo bisogno di questi Perché la cavalleria E' molto importante In questo gioco Ovviamente Essendo nei Tempi medievali La cavalleria E' come se fossero Dei panzer Situazione è abbastanza stabile Fin troppo No Non te lo do l'aiuto Mi stai Antipatico Smettila di chiedermelo Pisa Sotto pressione Sotto pressione Dalla fazione Kaiser Goshelak Del sacro romano impero Abdicato Enzo de Sabran La jihad per armenia E' fallita Va bene Accettiamo Va bene Una posizione di comandante No ma quello che mi sto chiedendo è Oh no Gravelkine Succession Perché Perché mi hanno visto come Allora Appoint Gerardo E mandiamolo qua E mandiamolo qua Credo che non c'è proprio Uno spread rate Sufficiente Della tecnologia Si è rispettato qualcosa di meglio E invece no No Questo qua ha fatto Ha fatto tutto apposta Questo Ha messo sopra un suo puppet Fondamentalmente Mica stupido No io non do il soldo Questo S'arrangia Military advice Advances Ludmila E' incinta Perfetto Oh per essere omosessuale Ti diverti tantissimo Con tua moglie Madonna mia Abbiamo pure Business focus Abbiamo 5 Weak claim Rügen Bavaria Ma non abbiamo qualcosa Tipo Dejure claim Un saluzzo Si però No Vedi infatti Non possiamo Non possiamo Oh niente Il nostro consiglio Ci impedisce Di fare guerra Contro qualcuno No Il nostro Il nostro maresciallo E' stato Ha perso un braccio Ma porca miseria One handed La crociata per Gerusalemme Fallisce Beh era D'aspettarselo Considerando che I musulmani Sono sempre Forti Qua dentro D'altronde Partono con Un avanzato Sistema Di Militare Un altro figlio Eravamo a 12 Adesso andiamo a 11 Numero 3 1 2 3 Bastione Il buon bastione E' nato Che è di Emiliano Chiariello Per troppo tempo Avete restretto La politica Ma porca No Io non do più Più potere Mi dispiace Io non sarò Blackmailed Terza Guarda civile Milanese Per aumentare Il potere Del consiglio Va bene Fate pure E direi che su questo Possiamo Tirare la spina Dell'episodio Perché è una situazione Abbastanza tesa Ragazzi ci vediamo Per il prossimo episodio Di Crusader Kings 2 In piena guerra civile Ciao a tutti